Giovanni Boccaccio nasce nel 1313, probabilmente a Certaldo, borgo di cui la famiglia paterna era originaria, e trascorre i primi anni di studio a Firenze. Nel 1327 si trasferisce con la famiglia a Napoli, poiché il padre, Boccaccino di Chiellino, socio della potente banca fiorentina dei Bardi, trova occupazione presso la corte angioina. La frequentazione dei raffinati ambienti dell'aristocrazia e della borghesia napoletana e la quotidiana pratica mercantile consentono a Giovanni di conoscere molte persone e di sviluppare quello spirito di osservazione e quell'esperienza della realtà, che saranno alla base della sua arte di narratore. Durante il soggiorno napoletano si afferma in Boccaccio anche la vocazione letteraria, nata dalla passione per la tradizione cortese, dei versi d'amore e dei romanzi cavallereschi, per i classici latini e per la più recente produzione in volgare fiorentino dei poeti stilnovisti, ma soprattutto di Dante e di Petrarca, con il quale stringerà in seguito anche una stabile duratura amicizia. Nel 1340, a causa della crisi della Banca dei Bardi, Boccaccio è costretto a tornare a Firenze e a cercare il sostegno economico presso vari signori, accompagnato dalla fama di grande studioso e letterato. Nel 1348 vive l'esperienza della peste e ne trae spunto per la cornice narrativa del suo capolavoro, il Decameron. Negli anni successivi svolge importanti incarichi diplomatici per il comune fiorentino e sotto l'influenza di Petrarca, che egli considera come un maestro, coltiva un tipo di letteratura più solenne e moralmente impegnata. Nel 1360 viene allontanato dagli incarichi pubblici, perché si trova indirettamente coinvolto in una congiura e decide di prendere gli ordini minori. Nel 1362 si ritira a Certaldo, dove conduce una vita appartata, dedita allo studio, alla meditazione e alla stesura di opere erudite. Dal 1365 torna di nuovo a svolgere incarichi pubblici e riunisce intorno a sé un gruppo di intellettuali che rappresenta il primo nucleo del futuro umanesimo fiorentino. Tra il 1373 e il 1374 tiene un commento pubblico della Commedia Dantesca su Incarico del Comune e muore a Certaldo il 21 dicembre 1375.